che tiene so guaiato e va dicendo signor teneto a cominciar ma coppo so sordo vedo poco bravo e top tengo 6 dente e tu stanna caretta a priessa coppo quello ma sta scena sta noce che mi accoglie appena dopo e poi un affanno se cammina troppo e a lui tre mesi non sto dicere ma come già mi faccio tieni i colli io siete anche l'unore articolare faccio cosci e macchi giallo ma giù capitemi dovevo partire idoneo e come faccio militare per me soltanto fronte può guarire bastuta con un zaino in un quintale scarpe che gli uova un gollo una ribotta tre giorni e quattro notti intanto tradotta direttamente fronte civitale non sai come principi non c'è male ma appena che stanno detto aprimmi a botto uno zumba e siamo qua in una grotta perenni sali in cielo non vengalo ma siamo a festogarmano all'inferno un fuoco e fila tutta la batteria ricetta e quanto è bello potete aspettavano a me ma a rete e spalla strillavano Savoia la fanteria e sapete ascoltare pure dei caldo no corpo a corpo o povera malata di mille malattie piglia i coraggi e prima che d'acceglie da me d'acceglie da raggio e sti un momento che ci ha postato con mia so spara sparo e più sfrenato io bevo sangue come acqua in marcia a sotto e con moscanza suo viaggio aspetta caro nio da già frate avanti e faccio a testo comandante annanzi e compagni avanti e lato a pressa sotto i tronali e scheggia sempre avanti e quella che pensava in un partito e quella di malattie con manufessa ha detto a far l'eroe ma può morire